Una necessità emersa nel corso dell'anno da parte del mondo degli agenti era la necessità di poter ricevere l'ordine EDI in coppia carbone. Dal 2013 ci sarà disponibile quindi questa nuova funzionalità sulla piattaforma WebEDI. Gli agenti potranno ricevere in coppia carbone il documento EDI scambiato tra il distributore e il produttore. Vi spiego in due battute come funziona questo servizio. Abbiamo tre attori, distributore, produttore, agente. Tutti e tre dovranno fare richiesta di attivazione del servizio. In secondo luogo il distributore e il produttore accetteranno l'attivazione di questa carbon copy. Quando operativamente l'ordine transita sulla piattaforma verificherà che quel codice è attivo per quella gente e automaticamente l'agente si troverà sul suo sistema WebEDI, e quindi in scarico, l'ordine che era stato trasmesso dal distributore verso il produttore.